Nell'episodio di oggi ci interesseremo delle proposizioni soggettive. Cominciamo come al solito da un esempio. Vediamo questo periodo, è evidente che Francesca è felice, caratterizzato da due verbi, quindi da due proposizioni. Il primo verbo è, a cui si aggiunge evidente e forma insieme con evidente la proposizione principale, e la proposizione secondaria, che è retta da evidente, che è che Francesca è felice. Poniamoci una domanda. Qual è il soggetto del è, quindi del verbo essere, nella proposizione principale? Prima di rispondere a questa domanda proviamo a trasformare la proposizione subordinata che Francesca è felice in un solo concetto, se possibile addirittura in una sola parola. Potremmo dire la felicità, la felicità di Francesca. E allora la felicità di Francesca è evidente. Ho cambiato la proposizione, ma di fatto il concetto è rimasto lo stesso. Invece di avere un periodo, una proposizione formata appunto da una sola frase, quindi una proposizione semplice, e allora questo mi spinge a dire che se la felicità in questa nuova proposizione diventa di fatto il soggetto del verbo essere evidente, può darsi anche che nel periodo precedente, cioè evidente che Francesca è felice, che Francesca è felice non sia altro che il soggetto del verbo essere, della proposizione principale, e cioè sono davanti ad una proposizione soggettiva, che come dice il nome, fa da soggetto al verbo della proposizione principale. Quindi che Francesca è felice, la proposizione soggettiva, che fa da soggetto al verbo essere presente nella proposizione principale. A questo punto possiamo provare a dare una definizione di proposizione soggettiva. Per proposizione soggettiva noi intendiamo una proposizione subordinata, che fa da soggetto al predicato della reggente, completandone naturalmente il significato, perché la proposizione soggettiva fa parte delle secondarie subordinate complitive. Andiamo a vedere allora in quale altre possibili, in quale altre circostanze possiamo avere la proposizione soggettiva, e cominciamo come al solito dagli esempi. È evidente che Francesca è felice, è ora di smettere di giocare, e è opportuno scegliere un'altra persona. In questo caso, in cui abbiamo ripreso come primo esempio, l'esempio che abbiamo utilizzato per dare la definizione di proposizione soggettiva, noi vediamo come dalla grafica c'è un elemento in comune, cioè il verbo essere, seguito da un nome, quindi evidente, ora, opportuno. Quindi possiamo dire che si ha la presenza della proposizione soggettiva nel momento in cui ci troviamo nella principale un costrutto, poi vedremo, parleremo di locuzione verbale, caratterizzato dal verbo essere più un nome. Ma la proposizione soggettiva si può anche avere in questi casi. Partiamo sempre dagli esempi. Occorre che le persone vadano a votare. Sembra che tutti siano d'accordo. Accade che i gusti cambiano. Bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Come vediamo, qui abbiamo dei verbi, occorre, sembra, accade, bisogna, che vengono usati impersonalmente. Quindi questa è un'altra circostanza in cui ci può essere la proposizione soggettiva. E ora vediamo altre circostanze in cui possiamo avere la proposizione soggettiva. Si sa che la Terra aggira intorno al Sole. Si pensa che tutti usino il cervello. Si sperava che i compagni votassero per lui. Si dice che ieri alcuni compagni di classe si siano visti a casa di Fabio. Si teme che sia un attentato. Come vedete, la caratteristica ricorrente di questi esempi è la presenza del si passivante che rende in qualche modo impersonale i verbi sapere, pensare, sperare, dire e temere. Quindi con la presenza del si passivante noi possiamo avere anche la proposizione soggettiva. Andiamo a vedere l'ultimo caso. È bello che tutti gli amici si sono aiutati a vicenda. Sarebbe bello che nel mondo non ci fossero guerre è giusto fare il proprio dovere e certo che lo sport fa bene alla salute. In questo caso vediamo un elemento ricorrente che è il verbo essere ma non solo si può avere anche un qualche altro verbo per esempio sembrare ma anche parere, ritenere. Più un aggettivo, un avverbio in funzione predicativa. Questo è l'altro caso in cui possiamo avere la proposizione soggettiva. E allora è arrivato il momento di fare un veloce riepilogo. Le proposizioni soggettive si possono avere con locuzioni verbali caratterizzate dal verbo essere più un nome e ore opportuno. I verbi usati impersonalmente come appunto abbiamo visto bisogna. Verbi usati con il si passivante quindi si dice, si sa e locuzioni verbali caratterizzate dal verbo essere più un aggettivo, un avverbio usati in funzione predicativa. Quindi è giusto, è bene, è poco, è torno. A questo punto andiamo a vedere in che forma si possono presentare queste proposizioni soggettive. si possono presentare sia in forma esplicita che in forma implicita. Fermiamoci sulla forma esplicita. Nella forma esplicita possiamo avere l'indicativo quando la reggente esprime la certezza è evidente che Francesca è felice. Quindi è evidente la reggente esprime una certezza che è chiara a tutti quanti. Possiamo avere il congiuntivo quando la reggente esprime invece un'incertezza, un dubbio, sembra, ma non è sicuro, che tutti siano d'accordo. In questo caso ovviamente avrò nella proposizione soggettiva il congiuntivo oppure si può avere anche la soggettiva o il condizionale quando il fatto indicato dalla soggettiva dipende da una condizione. È certo che preferirei rimanere qui ma non è possibile e quindi la condizione è quella che se avesse, se dipendesse da me se avessi una possibilità rimarrei sicuramente qui. Per quanto riguarda invece la forma implicita la soggettiva si può avere soltanto con l'infinito. Un infinito che può essere preceduto dalla preposizione di oppure no. Ecco i due esempi e ora di andare oppure bisogna uscire alla svelta da qui.